Rispetto ai fasti di Tokyo si è consolidato quello che è stata una crescita dell'atletica leggera italiana che è apparsa evidente, cioè guarda quelli che sono arrivati nei primi otto, adesso rispetto a tre anni fa. Hai avuto anche tu questa impressione dall'interno? Sì assolutamente, diciamo che questo movimento per descriverlo con una parola forse direi travolgente anche perché non dico che sia arrivato all'improvviso senza nessuna visaglia ma più o meno sì anche perché tanti ragazzi giovani e neanche più poi così giovani forti c'erano ma chi qualche anno fa avrebbe detto guardate questa qua sarà la nazionale oltretutto tre giorni fa mi pare premiata come miglior nazionale dell'anno. Io penso che il premio faceva riferimento agli europei però insomma se guardiamo anche i dati delle olimpiadi va bene sono mancati gli ore di Tokyo ma penso che nessuno abbia parlato in maniera negativa di questo anche perché ripetersi sarebbe stato praticamente impossibile ma bisogna guardare comunque il movimento in sé anche perché per esempio a Tokyo c'erano le cinque medaglie d'oro e poi dietro non dico il vuoto ma confrontando i dati dei premi otto comunque i finalisti prendendo anche i concorsi quindi i premi dodici rispetto a Tokyo insomma li abbiamo surclassati. Quei dati abbiamo fatto molto meglio nell'atletica abbiamo più o meno fatto risultati simili in generale come d'azione ma il movimento atletico sta crescendo e continua a farlo non so quanto potrà continuare a crescere perché insomma siamo arrivati non dico in cima o a una punta se si può sempre far meglio ma in questo momento c'è più spazio guardare verso il basso che verso l'alto secondo me. Sì ma quello che l'ha detto un po' per inciso però mi interessa molto perché io ho le mie teorie sulla sulla crescita sull'effetto valanga se così si può dire che può influenzare non solo diciamo i nuovi arrivati i super talenti come possono essere un Furlani o un Simonelli o nel tuo piccolo lo spauracchio di sito. So che siete amici proprio per questo motivo mi permetto un po' di scherzare però dal mio punto di vista penso che avere un ambiente stimolante possa essere positivo anche per quelli che c'erano anche da prima cioè dover per forza avere sto pungolo di mantenersi a vertici quando continuano a spuntare giovani forti è qualcosina secondo me ti dà come motivazione. Sei d'accordo secondo te? Sì no sono d'accordo anch'io ho provato più volte a analizzare diciamo mentalmente non numero alla mano quindi insomma matematica scritta i motivi per cui è arrivato questo effetto valanga nell'atletica e secondo me ce ne sono molti. Potrebbe essere guardando il lato economico magari e qua parlo ignorante perché non ho seguito magari di quello opposto potrebbe esserci stato magari un maggiore investimento o da parte della federazione comunque rivolto secondo me verso i tecnici. Che poi successivamente hanno trovato magari molti ragazzi forti da far crescere in questi anni anche perché i movimenti partono sempre dall'alto o almeno quasi sempre dall'alto anche perché puntualmente quando in Italia magari ci sono molti tecnici o qualche tecnico veramente forte veramente specializzato in qualcosa riesce sempre a tirare fuori il meglio dagli atleti che siano forti o che siano mediocre che siano fortissimi. Quindi si arriva sempre magari vicino al limite delle proprie capacità per quella teta lì. Poi un altro fattore potrebbe essere quello del gruppo appunto che dicevi te che comunque ci sono tanti ragazzi nuovi, giovani, forti, più anche quelli consolidati che continuano ad aggiornarsi un po' come quando magari qualcuno, un medico magari ha studiato, ha finito la laurea, ha finito le cose e poi dopo dieci anni comunque che non tocca magari i libri incomincia ad aggiornarsi molto di più, ritorna sui banchi di scuola per cercare sempre un continuo miglioramento senza volersi accontentare e un altro fattore oltre quello visivo e sentito appunto dei ragazzi che ci sono in campo che magari ti piantano il 44-75 in faccia così dal nulla e dici cavolo devo reagire a questa cosa qua. Per essere un esempio o è molto specifico? Un esempio così a caso? Sì no no ma non mi riferivo a nessuno, un olandese qualsiasi. No comunque facendo esempio appunto dei 400 visto che siamo in tema insomma sono qua io potrebbe essere anche un fattore di unione tra noi ragazzi e ragazze della nazionale non solo anche a chi magari non riesce ad arrivare in nazionale magari al di fuori. Però io vedo che quando siamo ai raduni il gruppo che c'è adesso è molto bello, cioè non parlo solo della velocità ma parlo in generale. Il gruppo è molto stretto, molto coeso, il fatto almeno qua parlo magari soggettivamente non in termini generali è una cosa che dico spesso però anche il fatto di avere Jimbo come capitano secondo me aiuta a dare una retta a tutti gli altri. Avere comunque una persona così forte mentalmente, così forte anche di risultati, di quello che ha passato, comunque le parole che usa sempre quando fai discorsi eccetera. Sono tutte quelle piccole cose che secondo me messi insieme possono andare a far migliorare il singolo che poi entra in campo magari senza paura, entra con decisione, con voglia di migliorarsi, con voglia anche di far meglio dei compagni anche di altre specialità per poi poter tornare e non essere magari uno di quelli che non ha sovraperformato in quella determinata gara. Insomma di voglia di fare ce n'è tanta e secondo me in questi anni la paura è andata un po' più a mancare. Forse ultima cosa che mi viene da dire è anche il fatto che ci sono tante punte in questo momento in nazionale. Per tutti quelli che stanno appena sotto la pressione diminuisce perché comunque i riflettori magari sono puntati di più su pochi che poi si reversa il tutto nel gruppo come movimento generale ma la pressione essendo su di loro magari gli altri riescono anche a entrare più sciolti poi in campo, in pedana o dove vanno.